Salve a tutti gamers, benvenuti al canale, sono Marichelle e oggi siamo tornati in Life is Strange eccoci qui, siamo a casa di Chloe, o meglio nella sua camera, eccoci qua e io direi di iniziare a... ma intanto parliamo magari con Chloe festa tutta la notte, non mi sento adulta, non molto, festa tutta la notte e in effetti, mi sembra anche a me molto amichevole direi, va bene allora, misura d'altezza ah, carino cerchiamo qua dobbiamo cercare un cd mi sembra mettere un po' di musica guardiamo e anche aggiustare la macchina fotografica di Max, allora, cerchiamo qua ah, la scatola là sopra, cerchiamo ops ah, allora torniamo indietro vediamo di sistemare questo caos ci sono riuscita? non lo so proviamo ma, quanto devo andare indietro? ok abbiamo visto tutto cassetto, ecco cerchiamo qua uh, carino che bello le supereroine Chloe e Max guardiamo questo eh sì vuole andare ad Arcadia allora, cerchiamo qua quindi è morto il papà allora, la tv eh sì, in effetti allora, portatile possiamo usarlo? oh ok cerchiamo qui? vediamo questi cd mh niente nemmeno qui allora vediamo un po' poster vabbè, questo ah, lei è piena di posti di Rachel who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets mh she does love trouble eh sì in effetti allora uh, qui sotto ah, eccolo il cd buongiorno e infatti eccole lì Chloe e Rachel quella è Rachel Amber quindi ha preso il mio posto non l'ho dimenticato facciamo non l'ho dimenticato capisco il perché e tua madre cosa è successo e tua madre? come lo sai e i suoi genitori come lo sai mh mh ok, ci ha preso un po' in odio in odio devo dire per questa cosa che siamo scomparsi per qualche anno quindi mettiamo su un po' di musica magari ce la facciamo no cosa devo fare scusate tv presa multipla accendiamo ok forse ora possiamo mettere il cd poster no cd ovviamente ovviamente io ragazzi vi tolgo la musica vi metterò qualcos'altro così per il copyright quindi vi tolgo la musica originale vi metto qualcos'altro per non stare senza musica tanto lei fuma come se non ci fossero domani ok quindi niente con lei non possiamo fare più niente se provo a riparlarle è bella arrabbiata devo dire quindi io direi di andare apriamo dai e abbiamo anche due porte davanti a noi però ha detto che gli attrezzi sono di sotto beh noi curiosiamo lo stesso così a caso cassetto guarda aspettate interruttore ok quindi curiosiamo come se non ci fossero domani apriamo cassetti degli altri cose ormai compresse di fluoxetina osp 10mg su prescrizione farmaco ad assumere dietro prescrizione medica ok apriamo questo allora cos'altro c'è nient'altro possiamo pesarci no 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 questo guardiamo roba ok non c'è niente mi sembra magari spegniamo altrimenti consumiamo corrente qui c'è qualcos'altro la camera di Chloe no no non lo so andiamo immagine ok magari andiamo di qua è morto un uccellino ciao uccellino apriamo salve lo posso salvare in teoria o lasciamo lì non lo so allora apriamo dog tags sweet david madsen madsen ok poi il libro wow wow allora apriamo questo oh joyce has a little shrine to william her new husband may not be such a douche carino allora qui cosa c'è rivista quindi niente niente di utile devo dire non vedo niente di uh qui c'è qualcosa ok apriamo questo cosa c'è qua benissimo allora qui cosa c'è una collana va bene molto carina ah l'ha fatto lei ma questo uccellino lo possiamo salvare vediamo no più indietro magari tanto da così così uccellino vediamo prima che muoia uh oh questa azione avrà delle conseguenze vabbè ma io lo lascio lì dai cosa può fare un uccellino andiamo cioè potrebbe fare di tutto effettivamente in questo gioco ci si può aspettare qualsiasi cosa ma noi siamo proprio sprezzanti del pericolo andiamo di sotto allora apposta apri vediamo qua siamo un po' curiosoni il suo conto all'interno urgente la sua bolletta elettrica all'interno scaduta uh accidenti possiamo andare di qui ma di là sì possiamo andare anche di là allora qui qui no ok aspettate allora una cosa per volta apriamo questo no non si può andare ok una cosa in meno da fare queste sembrava bella contenta con i capelli normali benissimo Kate ah grazie per avermi aiutata nessun problema quel tipo è vabbè un cretino andiamo cosa c'è qui una bella tv accende beh magari la spegniamo anche ok cos'altro c'è qui foto questa è la mamma di Chloe che fame ragazzi cereali latte burro d'arache di cioccolato orto di banane ok va benissimo cosa c'è qui nulla barattolo uh il barattolo delle monetine per risparmi quindi riviste vabbè dai non penso che sia niente di importante ci possiamo sedere davvero no? come on open it chicken hold on and I'm not chicken prove it you drink first Max no way it was your idea Chloe whatever give me that bottle well tasty very tasty here I want sorry this is not for kids don't be greedy give me some oh shit the carpet there's wine all over what do we do now my parents are coming cover it up alziamoci caspita quindi ha fatto un piccolo viaggio nei ricordi così questa è un'immagine di ah ok sì allora possiamo uscire sì possiamo uscire allora cosa c'è qui? nulla di che alta lena ci possiamo sedere anche qui ragazzi un bel viaggio nei ricordi sicuramente cosa vuoi fare quando tu cresci Max ho già cresci cosa e tu travel questo sarebbe be awesome explore la mondo and far from here far from me thanks a lot dude dude you would totally come come with me i need a bodyguard for our adventures i would be like lara croft except real that would be majorly cool totally totally we'd have cars and boats and planes all over for instant escape and no adults could tell us what to do count me in what would you do while i was bodyguarding you maybe take pictures of our adventures i would love to be a photographer as if i ever could be what are you talking about Max you are a photographer your pictures could be in a museum someday they will alziamoci molto carino ci fa capire tante cose di come erano amiche anche loro due e lei gli aveva detto che non l'avrebbe abbandonata mai tra l'altro invece poi ciao ne allora torniamo di qua andiamo forse di qui c'era una porti ecco possiamo andare di qui esatto eccoci qui allora c'è un portatile intanto ok non ci serve quindi credenza forse qua accendi what ha installato delle telecamere si vedono le varie stanze possiamo uscire ok e però avrà delle conseguenze quest'azione non so che conseguenze magari metto le guai no io manderei un po' indietro il tempo in modo che da chiudere magari lo sportello possiamo farlo via 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 non abbiamo visto niente ok non abbiamo visto niente cerchiamo qua cosa c'è ok attrezzi più piccoli attrezzi più p attrezzi guarda accendi benissimo vediamo se cade cadi ah sotto ok non lo so cartone spingi possiamo spingere il cartone vediamo ah ok ho capito va bene allora sono di nuovo là gli attrezzi ma in realtà no allora vediamo un attimo ok sono rivolati lì fantastico ce la facciamo allora spingiamo il cartone comunque bastava mettere una mano sotto eh allora e accendiamo questo ok cadi perfetto oh spegni dai non lasciamo le cose accese tiriamo abbiamo abbiamo gli attrezzi ottimo allora cassetto qui cosa c'è wow armi a gogo un bersaglio è anche bravo a sparare se è il patrigno appunto di clon noi guardiamo ovviamente dappertutto ok si è il guardiano ok apriamo qua però noi abbiamo anche visto comunque che è un luogo insicuro quella scuola con quegli psicopatici quindi 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 non è poi così terribile mettere delle telecamere wow una bella scorta tantissima roba auto vabbè non c'è da fare più niente forse quindi torniamo da andiamo segreteria cioè il patrigno ha visto chloe vicino a una discarica che lui dice che è pericolosa questa discarica non so che idea farmi del patrigno diciamo insomma andiamo di sopra allora la camera era qua benissimo parliamo con chloe ok benissimo come siamo bravi come siamo bravi veramente bravissimi oh ah Ero lì Ero lì Diciamo la verità Non ero sicura Non ero sicura Solo un po' Non proprio Solo un po' No, non l'abbiamo detto nessuno Bene, sembra più tranquilla adesso Uh, mette della musica Forza Musica, musica No, forse no In realtà sta cercando Qualcosa Ma era una bella fuori Ma era una bella fuori la nostra, mannaggia però bella la fotocamera, molto carina oh, un po' di musica ok, va bene cosa devo fare? eh, non lo so foto, ah, ok facciamo una foto ok, balliamo oh ma davvero? oh, ok c'era un'arma eh, sotto il letto 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 letto, nascondimi no, 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 no eh, qua, 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 va benissimo dai, vai ops e quindi? non ho capito cosa devo fare torno indietro? ma io non ho capito cosa devo fare la, ah, ok spostiamo ho l'ansia ok oh oh rimani nascosta e intervieni beh, noi siamo estrane diciamo alla famiglia quindi magari se interveniamo proviamo non lo so oh 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 non so se abbiamo fatto bene ragazzi ok cos'è? per ora beh, insomma proprio epico non saprei però ok ma ha salvato che non lo so ma ha salvato che non lo so allora vediamo un attimo se possiamo parlare perché rubare una pistola? chcę usarla chcę usarla ah bene ah bene ok ok dovevamo uscire dalla finestra? possiamo uscire? se? dai così salviamo e poi chiudiamo la puntata vieni vieni vieni, Chloe vieni 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!